E' la rete criminale internazionale in più rapida espansione che esiste al mondo. Ha già superato il traffico illegale di armi e presto supererà anche quello di droga. Si può vendere una dose di cocaina una volta sola, ma un bambino cinque, dieci volte al giorno. I figli di Dio non sono in vendita. Da quanto fai questo lavoro? Da 12 anni. Quanti pedofili hai arrestato? 288. E quanti bambini hai trovato? Siamo la sicurezza interna, sai bene che non possiamo salvare bambini honduregni in Colombia. Vuol dire che scomparirà per sempre. Immagina di entrare nella sua stanza ora e di vedere il suo letto vuoto. Cosa faremmo? Lascia il tuo lavoro e va a salvare quei bambini. Ora potrebbe trovarsi a un isolato da qui oppure essere a Mosca, Bangkok, Los Angeles. È territorio dei ribelli. Nessuno può entrare. Nell'esercito, nella polizia. Se si trattasse di tua figlia, nessuno verrà a salvarci. Siete soli. Questo lavoro ti riduce in pezzi. Questa è la mia unica occasione per provare a rimetterli insieme. Quando Dio ti dice cosa fare non devi esitare.